Gentili telespettatori, buona giornata. Sapete che il segretario nazionale dell'Udc, partito di centro, del centrodestra, viene indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per associazione esterna mafiosa. Bene, l'Udc era corteggiato dal governo, i suoi tre senatori interessano e molto molto al governo che ha la caccia di mercenari. Conte che è a corto di posti di lavoro da offrire farà un maxirimpasto di governo in modo da liberare tutti e 65 i posti di governo e poterli distribuire a destra e a sinistra ai mercenari in arrivo per convincerli a votare per lui. Vota per Giuseppe, vota per Giuseppe. E così l'Udc aveva detto di no. Cioè no. Prima erano interessati poi hanno detto di no. Rimaniamo nel centrodestra. Salvini ha detto non vi preoccupate in caso di elezioni anticipate vi aiutiamo noi. Cosa vuol dire? C'è una soglia di sbarramento al 3% che loro non ci arriveranno mai. Quindi il loro destino politico è segnato. Fine del lavoro, fine dello stipendio. Salvini dice vi aiutiamo noi al posto che accettare offerte di lavoro dall'altra parte vi assorbiremo noi praticamente come senatori. Questo vuol far capire vi aiuteremo noi. Non ci sono altri modi di essere aiutati. E quindi l'Udc dice un secco no. Rimaniamo nel centrodestra. E così arriva la magistratura e con l'inchiesta della DIA di Catanzano lascia senza guida il partito del centro perché Lorenzo Cesa dà le dimissioni da segretario dell'Udc. C. Beh, i suoi senatori erano trentati dalle sirene di Giuseppiane. E adesso che cosa succederà? Beh, la prima reazione è stata un mezzo shock. Beh, la notizia di Cese indagato in concorso esterno in associazione mafiosa potrebbe complicare le già frenetiche trattative per rafforzare il governo. Ha ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017 e si ritiene totalmente estraneo e si è subito dimesso. Dice così alla particolare fase in cui vive il nostro paese autorizzare o collegare anche se in modo del tutto indiretto la vicenda personale giudiziare del leader centrista con la crisi di governo. Sarebbe sbagliato. Beh, Conte sta cercando di costruire questo nuovo gruppo parlamentare che ha bisogno di almeno 20 parlamentari per essere creato. Questo dice la legge. Per fare un partito nel Parlamento devi avere almeno 20 parlamentari e quello è un gruppo parlamentare, un partito. Se ne hai 18, 15 non sono sufficienti. E così Conte riuscirà in una settimana a trovare 20 mercenari pronti a... beh, attenzione. Se lui fa il rimpasto e libera 65 posti di lavoro dovrà dire a PD e 5 Stelle guardate noi per andare avanti devo dare posti di lavoro ai mercenari se no questi non vengono visto che non gli possiamo offrire un posto di lavoro nella prossima legislatura almeno uno stipendio aggiuntivo da sottosegretario o da ministro. Quindi se lui cerca 20 persone deve dare a queste 20 persone un posto di lavoro. Se ne libera 65 tra ministri, sottosegretari eccetera, 65 il numero massimo di facenti parti il governo, se no bisogna fare una legge apposta per aumentare il numero. Bene, se libera 65 posti, 20 li trova da dare ai mercenari. Bisogna capire se il mercenario si accontenta di un posto da sottosegretario con assolutamente l'incognita della prossima legislatura che andrà a fare, sarà disoccupato o no. Il mercenario vuole avere la certezza che nei prossimi cinque anni di governo, quando questo finisce, abbia un lavoro. Se voi gli offrite solo un posto da sottosegretario per questo governo fin quanto dura, capite che è un po' poco per lasciare il sicuro e andare nell'aleatorio. È così. Fino a ieri l'oggetto del corteggiamento era proprio questo, i centristi, chiamandoli costruttori, cercando di reclutarli per sostenere la maggioranza. Il Quirinale dice che non deve essere una maggioranza raccogliticcia. Beh, quello dell'Udc è forse ancora l'oggetto del desiderio. Ma con Cesa fuori dei giochi le cose si complicano. Ecco, nel governo c'è chi vede avvicinarsi il voto anticipato e chi paradossalmente spera che la situazione possa persino favorire un'evoluzione della situazione favorevole a Conte. I tre senatori dell'Udc sono pronti da tempo a venire con noi. Alza gli occhi al cielo un ministro, mentre Cesa, che molto legato al centrodestra, faceva resistenza. Per ora i senatori dell'Udc Antonio De Poli, Paola Binetti e Antonio Saccone si limitano a esprimere piena e totale solidarietà al segretario dimissionario. Certi che potrà dimostrare la sua totale stranità e la che la magistratura farà chiarezza quanto prima. Certo quel quanto prima ci vogliono ci vogliono anni. Ci vogliono anni prima che la magistratura poi dice ah guarda ci siamo sbagliati comunque. Cesa non c'entra niente. Però te lo dicono dopo finite le indagini. Intanto il danno personale è assolutamente ingente. Quindi i senatori adesso che faranno? Rimarranno fedeli al centrodestra con le promesse della Lega o adesso che non c'è Cesa come segretario si sentono più liberi di accettare la proposta di Conte? Bisogna vedere, dovranno mettere sul piatto della bilancia che cosa è meglio. L'offerta economica di Conte o l'offerta economica del centrodestra per rimanere. Dovranno mettere sul piatto della bilancia e dire cosa ci conviene di più. Cosa è meglio per il nostro futuro economico? Economico. E lì prenderanno una decisione. Quindi capite che non si parla di valori alti per il popolo, per il paese, per i disoccupati, per l'economia. No. Per l'interesse assolutamente della persona, interessi personali. Quindi questo governo si regge sugli interessi personali. Ecco, è una repubblica parlamentare fondata sul mutuo del deputato. E con questo si capisce tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, Teleitalia, nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.